Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 26 gennaio 2019, la nostra consueta rassegna stampa, infatti andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali per poi a seguire le prime pagine dei quotidiani nazionali e le pagine sportive. Vogliamo subito partire con la prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara, titolo di apertura del centro della provincia di Pescara, movita ecco i vigili antivandali a da questo weekend in servizio fino a mezzanotte per tutelare i residenti. Nel taglio alto vediamo in merito alle elezioni che si terranno a febbraio, verso il voto intervista esclusiva al Berlusconi, torno in Abruzzo per rilanciare la politica e poi i sondaggi sui candidati più autorevoli. Nel taglio di spalla di sinistra a Pescara Corso Vittorio, senso unico e busse deviati, dice partiranno lunedì mattina i lavori per rifare la pavimentazione su Corso Vittorio Emanuele. Inoltre sempre a Pescara, problemi di sanità, i malati di SLA, Ministro abbiamo bisogno di aiuto, un appello che fanno i malati di SLA. Al centro pagina, la foto anche di copertina, migliore gestione d'Italia, Montesilvano premiata da Salvini per gli immigrati, qui infatti nella foto vediamo, ospiti e operatori di uno Sprar premiata da Salvini per il programma di gestione degli immigrati. Sport, Pescara, sappiamo che giocherà con il Livorno, pilone attende rinforzi dal mercato. Nel taglio basso, vediamo un articolo di cronaca, presi i ragazzi che truffano, gli anziani, arrestati due giovani napoletani, autori di una serie di colpi nella Val Pescara. Vogliamo spostarci adesso sempre sul centro, questa volta della provincia di Chieti e della zona di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura falsa invalida scoperta a processo. A Chieti, anziani in carrozzina, inganna i medici e poi cammina da sola. È accusata di truffa. Negli articoli di Spalla vediamo cimitero, pochi loculi, tombe solo ai residenti. Il sindaco di Primo ha fatto un'ordinanza, dice proprio perché c'è una carenza di loculi e ci sono solo 20 posti liberi. Sempre Chieti, all'ex ospedale, polo salitario da 19 milioni di euro. Un lutto, addio a Cianci, la toga d'oro, morta a 86 anni. A Vasto crolla il tetto nella chiesa del Giubileo, si spezzano, dice le travi e si apre un buco di oltre 10 metri. L'edificio era pericolante. Nella foto di copertina, vediamo segnali positivi in Val di Sangro, la Sevele di Atessa, supe 140 dipendenti precari. Qui vediamo l'interno della fabbrica, dello stabilimento della Sevele di Atessa, dove si costruiscono i furgoni Ducato. Vogliamo adesso leggere la prima pagina, sempre del centro, questa volta della provincia di Teramo. Saltano i computer, la Asle va in tilt. Problemi in alcuni servizi degli ospedali terramani e centri di prenotazione chiusi. Negli articoli di Spalla, di sinistra, zona di Pineto, comune di Pineto, casa di riposo abusiva scoperta dai carabinieri. Blizze dei carabinieri, una villetta di Pineto, dove una 55enne del posto aveva allestito una casa di riposo completamente abusiva. La donna è stata denunciata per vari reati. Ad Atri, marito violento, condannato a due anni e mezzo. Inoltre Sport, il Teramo, a Gubbio, aspettando i gol di Infantino. Nel centro pagina, sbloccata la gratuatoria, ecco dove saranno aperte, in provincia di Teramo, nuove 14 farmacie. Inoltre, in merito all'incendio che c'è stato questi giorni nel comune di Martinsicuro, rischio inquinamento. Dopo il rogo dell'azienda, il sindaco ordina finestre chiuse entro un chilometro. Vogliamo leggere la prima pagina del centro della provincia dell'Aquila, delle zone anche di Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura, San Pietro, quartiere dimenticato. All'Aquila, nostro viaggio nelle zone del centro, dove la ricostruzione, dice, non è mai ripartita. Nell'articolo di spalla di sinistra, sempre all'Aquila, Panella, capo dei giovani industriali, spiamo che Stefano Palella, un imprenditore aquilano, è stato confermato alla guida del gruppo dei giovani di Confindustria. A Sulmona, la burocrazia salva i furbetti del cartellino. D'Aspo a Prado, la cinghiata e ultra ai rivali, stati vietati per tre anni. E inoltre, sempre all'Aquila, nel centro pagina e foto di copertina, ex e car sciopero per difendere i 300 posti di lavoro. Nel taglio basso, un articolo di cronaca, d'Avezzano, impiegata comunale, si accascia e muore. Fatale un malore per la 61enne di Bastiano, pilastro della ragioneria del comune di Avezzano. Titolo di apertura del quotidiano, il messaggero della provincia dell'Abruzzo. Cronaca, Bussi bonifica più veloce. La Meloni visita il sito e accusa il ministro Costa. Con te, dice, procedure rallentate. Berlusconi questa mattina all'Aquila, nella sede del Lance e dopo le Newstown. Inoltre, nel taglio centrale, articolo di cronaca, con la foto, allarme a Pescara, dopo l'ultimo sgombro, la tendopoli dei disperati. Sono le stesse persone sgomberate tre mesi fa dai palazzi clerico. E nel taglio basso, di sinistra, stranieri con la disoccupazione inchiesta dell'Inps sugli espatri. Licenziamenti concordati per prendere l'assegno. Poi via dall'Italia. E inoltre, vediamo qui l'incendio che c'è stato a Martinsicuro. Tanti messaggi di solidarietà e il titolare della ditta di materiali colpita dal rogo. La città quotidiano della provincia di Teramo scoperta una casa di riposo abusiva. In una villetta si prendeva cura di dieci anziani senza alcuna autorizzazione. Scattata la chiusura. Sempre nel comune di Teramo, ponte da restringere. Dalla prossima settimana sono previsti i lavori e ci sono anche disagi per il traffico. Il comune di Tortoreto condivisa e approvata la nuova tassa di soggiorno imposta dalla sindaco. A Roseto i vandali rubano un fiore raro nel borsacchio. Guasto al cap verso la soluzione, la ASL prevede di riattivare le prenotazioni entro oggi. Sappiamo che ieri c'è stato un blackout informatico della ASL di Teramo. Martinsicuro, finestre chiuse per mille metri intorno al rogo del Capannone. e a Giulianova due in corsa per dirigere il polo museale. Sport serie C, il Teramo a Gubbio a caccia del blitz nella lotta alla salvezza. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. I pubblici ministeri, ora sbarcate i minori. Nodi Salvini hanno 17 anni, dice, restano a bordo. Tensioni con l'Olanda. Il caso Sea Watch, i vice premier battono, batte, dice, bandiera dei Paesi Bassi. Prendeteli voi. Oltre nel centro pagina, nella foto di copertina, nel Venezuela, sappiamo che c'è stato un colpo di Stato, Maduro parla in tv, saluta i suoi sostenitori, mentre lascia un raduno in piazza Bolivar a Caracas. Nel taglio basso vediamo notizie dall'America. Sospeso lo shutdown, Russia Gate le accuse a stone Trump. Spinto al compromesso l'FBI arresta il suo consigliere. Inoltre un incidente, un tragico incidente, è successo ad Aosta. Un piccolo aereo si è scontrato con un elgotro. Scontro in volo, dice, cinque morti. Il quotidiano La Repubblica, il PM, il pubblico ministero, fate sbarcare i minorenni, ma Salvini blocca. La Sea Watch, i vice premier contro l'Olanda, caso 18, Movimento 5 Stelle, verso il Sia, il processo per il leader leghista. Questo è il titolo di apertura. Inoltre nel taglio basso, vediamo la tragedia che è successa in Val d'Aosta, elicottero aereo si scontrano sul ghiacciaio, cinque morti, due feriti e due dispersi. Inoltre Piazza San Carlo, al dio alla donna rimasta paralizzata, spero, dice, che il mio dolore serva, si arresa dopo 19 mesi. Quello che è successo nella tragica sera della partita, Piazza San Carlo a Torino. Migranti, duello, PM Salvini, Di Maio per il Sia, il processo, il titolo di apertura del quotidiano Il Messaggero nazionale. La procura ha sbarcato i minori della Sea Watch, il Viminale non scende nessuno. Il ministro sfida l'Olanda, li accolgano loro. Il Movimento 5 Stelle si schiera sul caso Diciotti. Inoltre nel taglio di spalla di destra, iniziato il nuovo anno giudiziario, le toghe in crisi di reputazione, dice, troppi scandali. Tav, il dossiere lega, l'opera va fatta, lo stop costa troppo. Il leader del carroccio dice, basta perdite di tempo, ma i 5 Stelle insistono, rinvio a dopo le europee. Trump, fine shutdown, ma a tempo. Al 35esimo giorno di paradisi federale, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia di aver trovato un accordo temporaneo con i democratici per sospendere lo shutdown. Inoltre nel taglio basso, nel box di sinistra, telefonino in aula, il divieto che aiuta a imparare meglio è il ministro, dice, decide il professore. Finalmente, l'articolo dice, si comincia a ragionare alla Camera dei Deputati, iniziato l'esame della proposta di legge che mira a istituire l'educazione civica come materia obbligatoria e prevede di vietare l'uso del telefonino in classe. Il fatto quotidiano, altro quotidiano, la scelta di Di Maio compatte i suoi ok all'autorizzazione a procedere per sequestro. Il Movimento 5 Stelle sì al processo di Salvini, se lo vuole lo avrà. Il ministro giurò niente scudi, ma la vota no. Inoltre nel taglio centrale, vediamo impunità, negate ai giudici le intercettazioni, soli 5 Stelle votano per autorizzarle. Salvate, dice pure Gigino a pulpetta, Lega, Forza Italia, il Libro è uguale, però il PD si astiene. Dice, all'epoca dei fatti era deputato con questo trucco. La giunta di Palazzo Manama decide che i magistrati non possono usare le intercettazioni nel processo contro il senatore forzista campano Luigi Cesaro, indagato per voto di scambio. Vogliamo andare avanti con la lettura del quotidiano Il Mattino, la prima pagina. L'Unione Europea per le grade della metro, Napoli può perdere 98 milioni di euro. Ispezione della Commissione sui fondi, nel mirino allo stop del ministero, alla linea 6, il sovrintendente Garella attacca. A ragione Bruxelles, bisognava decidere prima. Vediamo nell'articolo di spalla, di sinistra, sbarchi, sfida tra PM e Salvini. Di Maio dice accetti il processo. La SEA Watch, la procura, dice minori a terra, no del Viminale, è scontro con l'Olanda. Rifugiati, boom di ricorsi, in Cassazione. Vogliamo adesso andare avanti con il quotidiano La Stampa. Vogliamo vedere adesso dal Venezuela, Francia e Germania. Lui o elezioni. Roma dice non prende posizione. Guaidò, l'Italia e l'Unione Europea ci aiutano. Intervista al Presidente che sfida Maduro. Spero intervenga il Papa, dice andrà a parlare con i militari. Inoltre vediamo nel taglio centrale, nella foto anche di copertina, della triste tragedia in Val d'Aosta. Schianto in volo per la passione dell'Eliski. Cinque morti e due dispersi per lo scontro tra un elicottero e un Piper sul ghiacciaio del Rutor. Tra le vittime Franca Esler, la guida alpina tedesca. Scudo a Salvini. Di Maio per il Sì. Il Movimento 5 Stelle si spacca sul caso che era accaduto della Diciotti e Sea Watch. Vogliamo spostarci al manifesto vietato ai minori, dice l'articolo di apertura. Poche miglia dalla costa di Siracusa crescendo uno spettacolo indecente, dice il giornale. La Sea Watch è ancorata ma nessuno può scendere. La procura dei minori di Catania chiede di far sbarcare 13 bambini, ma Salvini si rifiuta e minaccia di denunciare l'equipaggio. Vediamo nel taglio sempre centrale. Venezuela ha la maggioranza degli stati americani contro il colpo di Stato. Guaidò e Trump bocciati dall'OSA. L'OSA, vogliamo ricordare, è l'organizzazione degli stati americani. Inoltre sul processo bis sul caso Cucchi, la signora Cucchi dice che i depistaggi continuano ancora. Tentativo, dice l'articolo, di insabbiamento della verità e di depistaggio dell'indagine sulla morte di suo fratello Stefano Cucchi. Vogliamo vedere il tempo. Articolo di apertura. I carabinieri ora rischiano il crack. Chiesto un risarcimento di 66 milioni di euro da un siciliano risarmarcito, 22 anni in carcere da innocente, torturato dai militari, confessò un delitto non suo. I giudici chiede i danni all'arma dei carabinieri e lui l'ha fatto. L'articolo, dice lui, ha trascorso ingiustamente 22 anni in carcere per il chiusato della strage di Alcamo. Giuseppe Gullotta, ex muratore, è stato vittima di uno degli errori giudiziali più gravi della storia della Repubblica italiana. Negli articoli di spalla, di destra, il caso Seawatch, Marteo Salvini denuncia l'ONG. E inoltre il mezzo in fiamme sulla cronaca in via di Vigna Murata, che si trova al quartiere dell'Euro, zona sud di Roma, il 2019 fiammante di Atac. Altri due autobus a fuoco. Vogliamo postarci sul sole 24 ore quotidiano economico nazionale. Articolo di apertura. Tav e Trivelle, alta tensione nel governo. Lega e Movimento 5 Stelle contro Dossieri di Salvini sulla Torino-Lione va fatta. Conte invece dice, ma è ancora attuale. Costa, dice, il ministro, dice io non firmerò nulla, iter a rischio, anche per attività al di fuori della moratoria. Sui articoli di spalla, di destra, del quotidiano, inizio dell'anno giudiziario, più 500% di ricorsi dei richiedenti asilo. Un forte richiamo a non arretrare nella difesa dei diritti umanitari, dice qui l'articolo. Nel taglio basso vediamo il caos e disagi. Trump sospende lo shunt down. Inoltre Vodafone stoppa gli impianti Huawei. L'operatore interrompe gli acquisti di sistemi per le nuove reti 5G. In merito sempre alle parti economiche, la Fininvest vende Milano 4 a Orion per 20 milioni di euro. Vogliamo continuare con la lettura del secolo d'Italia. Verità su Castelnuovo. Sono tanti i consiglieri comunali del territorio che si ribellano alla descrizione che i media stanno dando di quanto sta avvenendo nel centro alle porte di Roma. Dice basta passerelle, il cara di Castelnuovo di Porto è costato agli italiani più di 72 milioni di euro e ha portato solo degrado e delinquenza. Qui in mobilizzazione sono stati anche i sindaci di Montorotondo, Torita di Berina, Santoreste e Capena che sono dei sindaci limitrofi al comune di Castelnuovo di Porto che si trova nella zona nord di Roma. Salvini andrà a processo e la giunta per le elezioni del Senato esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro. Ma lui dice non si ritiene preoccupato e ha già dichiarato che rinuncerà all'immunità parlamentare. Vogliamo cambiare un po' di piano, ci spostiamo alla verità. Titolo di apertura, giocano al piccolo profugo. I ricconi di Davos provano il brivido di fingersi migranti per 75 minuti. Tra una sauna e una sciata, l'offensiva messiscena dell'elite che tifa invasione perché non sa che cosa sia davvero. E si diverte, dice, a farsi sequestrare i gioielli e passare un'oretta in una tenda sorvegliata da attori. Infatti qui il giornale ne mette anche le foto. Alt, articolo ai cellulari in classe, ma il ministro cade la linea. La Lega e Forza Italia propongono il sacrosanto divieto. Bussetti, aria, carroccio si oppone. E inoltre, qui l'articolo dice, al governo ormai sono quasi abituati alle critiche su questo tipo di argomento, di vietare l'uso dello smartphone e di altre pericchiature simili a scuola. inoltre, domani, giornata della memoria, necessaria una data che ricordi anche gli abomini comunisti. La retorica e il vuoto dobbiamo pensare alla nostra identità. Sappiamo che in giornata della memoria ci sono costato la vita a molte altre comunità, non solo ebrei, ma anche altri tipi di comunità anche religiose. A proposito della tentenziosa ricerca pubblica sul Corriere, dice no, non nasciamo tutti uguali per fortuna. E inoltre, vediamo caos Venezuela dall'Unione Europea, ultimato ma maduro, elezioni o guaidò presidente. Qui dice l'articolo, stranamente, proprio per questo argomento, l'Europa sembra tutta unita e sta ultimando una nuova dichiarazione comune in cui si chiede la rapida convocazione delle nuove elezioni in Venezuela. L'avvenire inizia col titolo di apertura, ancora ostaggi. La nave Sea-Watch a Siracusa con i 47 salvati in mare, fermata a largo. La procura chiede di fare sbarcare i minori. Il governo replica, dice, li prenda all'Olanda. Caso Stati Uniti, Trump blocca lo shutdown, preso un suo uomo che è stato arrestato. Inoltre, scuola divisa sul cellulare, vietato a scuola una proposta di legge che ha scatenato di nuovo una discussione al Parlamento. Inoltre, tassa sulla bontà sospesa, il no profit resta a rischio. Copertura a tempo, il primo reddito il 27 aprile, nelle famiglie una card a testa. E inoltre, lo scontro in volo aereo-elicottero che ha portato cinque morti sulle nevi. Sì, vogliamo adesso spostarci ai quotidiani sportivi. Abbiamo terminato i quotidiani nazionali, ci vogliamo spostare su argomenti sportivi. Vogliamo vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi sulla Gazzetta dello Sport. Titolo di apertura, Paris, leggenda a strafe. Vediamo per la terza volta, doma la discesa più difficile. Dice, ma mi ero spinto così vicino al limite. Vediamo, domina il supergigante. Dominique, Paris, a 29 anni è saluto al secondo posto della classifica di discesa, dietro a Feuz, e ha 12 vittorie in colpa del mondo. E inoltre, passiamo alla partita di questa sera, milaotto giorni di fuoco. Stasera e martedì Coppa Italia, Napoli in Napoli e poi la Roma. Paquetà debutta a San Siro e Piatec scalpita Ancelotti, Alanna resta, ma non gioca. Sacchi, Ottavio, Bianchi, analizziamo per noi la sfida. Questa sera grande partita. E inoltre, accordo con la Lazio, notizia di mercato, Juve che ritorna, arriva a Caceres, sarà a Bianconevo per la terza volta. Ci spostiamo al Corriere dello Sport, sempre la partita di questa sera, e anche Piatec e Milic e Mila-Napoli in salsa polacca. Mai visto prima, Gattuso esalta l'ex genovano, ma lo farà entrare a partita in corso, dice l'allenatore del Milan. E Arec guida l'altacco, azzurro a San Siro è pronta a godersi la sfida dello spettacolo. Vogliamo vedere anche il Corriere dello Sport, riporta la notizia dello sci, terzo trionfo, di Paris, l'Università della Libera, Dominique, nella storia. Vogliamo adesso vedere l'ultimo quotidiano sportivo, il tutto sport quotidiano. Si parla del GASP, centro di questa Atalanta, il tecnico nero-azzurro festeggia i suoi 61 anni, Champions League, dice ci promiamo, mai visto uno come Zapata. E inoltre, qui si parla anche di vecchie glorie, di Boniperti, e inoltre si parla anche della Juventus, che è Juve, ecco Caceres, il difensore uraguoriano. Ci vogliamo fermare con quest'ultima notizia sportiva, vogliamo fare un break pubblicitario, vogliamo prima ascoltare però le previsioni medie per quest'oggi e poi passare alla seconda parte di Mattino 6, che andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo subito iniziare con la lettura delle pagine interne del quotidiano della provincia di Pescara del centro. Partiamo subito con il sondaggio che è stato fatto sui candidati e è stato riportato che l'ex vicepresidente del CSM, Legnini, è stato il più arrottorevole, anche se Sara Marcozzi è considerata la più popolare. E inoltre, vediamo anche che l'ex premier Silvio Berlusconi dice, sarò in Abruzzo, all'Aquila, dove ho dei bellissimi ricordi ai giorni di quando c'è stato il sisma. E anche l'onorevole Meloni e Marsiglio sono stati in visita a Bussi, sappiamo Bussi dove c'è stato il problema della bonifica, un problema molto delicato, però a riguardo vogliamo vedere il servizio. Prego. Presidente, era stato qualche tempo fa a Montesilvano per l'emergenza del fiume Saline, oggi l'emergenza a Bussi. Beh sì, noi vogliamo dire con queste nostre iniziative, le mie prime due sono concentrate su questo tema, che la questione ambientale in questa terra per noi è una questione centrale, che tra i punti più qualificanti del programma di Marco Marsiglio c'è quello di un piano straordinario di bonifica per questi territori, perché questa è una terra che ha delle potenzialità enormi e dalla terra alla fine dipende tutto, dipende il lavoro, dipende il turismo, dipende la qualità della vita, dipende la salute dei cittadini e quindi noi vogliamo andare all'origine dei problemi principali che abbiamo e quindi su questo siamo mobilitatissimi per quello che riguardava il Saline e per quello che riguarda la vicenda di Bussi, sulla quale pure abbiamo insomma molte proposte per affrontare la bonifica di questo territorio. Una regione da quale non si parli solamente quando ci sono le calamità naturali, una regione centrale e punto di riferimento di una intera nazione che sa sviluppare le sue capacità e che sa far tornare indietro le persone. Vede io sono fiera che noi candidiamo oggi alla presidenza della regione Abruzzo, uno dei tanti abruzzesi che sono dovuti andare via da questa terra perché non c'erano opportunità. Mi piace pensare che Marco Marsilio sia il primo degli abruzzesi che tornano a casa e un esempio per quegli abruzzesi che non vogliono andare via da questa terra straordinaria. Tante visite di leader nazionali in Abruzzo in questi ultimi giorni, soprattutto del centrodestra, sinistra e 5 Stelle dicono che questo è un sintomo di paura. No, io credo che questo sia il sintomo del fatto che i leader del centrodestra sono persone abituate a girare sul territorio e soprattutto come vedete anche stamattina qui sono persone che quando girano sul territorio vengono accolte con entusiasmo da un popolo che sa che noi siamo schierati dalla loro parte. Non so bene cosa accadrebbe se a fare la campagna elettorale per Nel Nini ci venissero Renzi e Laboschi. Probabilmente noi siamo leader, diciamo persone che non hanno difficoltà a girare e qualcun altro preferisce nascondere i propri leader e i propri simboli perché si vergogna della sua storia. Marsilio, la questione ambiente resta prioritaria in questa campagna elettorale. Qualche giorno fa era venuto il ministro Costa qui a Bussi, oggi lei e l'onorevole Meloni? Certo, l'ambiente è una delle priorità della nostra terra, abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale proprio con Giorgia Meloni sul fiume Saline per dimostrare la nostra attenzione rispetto a queste problematiche. Bussi è un esempio scandaloso di come è stato gestito l'ambiente in questo territorio e di come non si sta affrontando tempestivamente la questione della bonifica. Il ministro Costa invece di fare passerelle elettorali a pochi giorni dal voto per sponsorizzare la sua candidata, fecesse il ministro della Repubblica, andasse dentro al ministero a far camminare le carte perché mentre lui viene qui a chiacchierare i suoi dirigenti bloccano la bonifica del sito e ancora non si vede una sola ruspa in azione per poter mettere in sicurezza questo territorio. Vogliamo riprendere, andando avanti con l'argomento, Sara Marcozzi si è presentata invece nel comune di Avezzano con il sottosegretario all'agricoltura Alessandra Pesce e dice fondi dell'Unione Europea e acqua per rilanciare l'agricoltura e dice determinante sarà anche la rimodulazione delle risorse finora sottoutilizzate. Anche qui vogliamo vedere il servizio. Sara Marcozzi, candidato presidente del Movimento 5 Stelle alla Regione Abruzzo, oggi ad Avezzano per presentare alla presenza del sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole Alessandra Pesce il programma agricoltura del Movimento 5 Stelle. In caso di futura elezione al prossimo governo regionale, da dove comincerà il Movimento 5 Stelle? Cominceremo da riordinare il bilancio che è stato lasciato in una situazione un po' di confusione e finalizzato questo riordino anche ad una nuova programmazione di quelle che sono le risorse della nostra regione. Uno dei primi obiettivi che ci poniamo è la nuova programmazione dei fondi europei finalizzata evidentemente allo sviluppo di quella che è la priorità in questa regione, cioè il lavoro, l'occupazione. Quali sono i punti alla base del programma del Movimento 5 Stelle che riguarda il settore agricolo? L'obiettivo è di concretizzare quello che gli altri continuano a ripetere ma non hanno fatto, cioè sappiamo che l'agricoltura può essere un volano di grande sviluppo economico e anche turistico della nostra regione, abbiamo buttato giù un programma di governo, non un programma elettorale, un programma di interventi concreti per aiutare le imprese, per rilanciare i prodotti abruzzesi, per creare il marchio Abruzzo e insomma per migliorare la vita dei cittadini abruzzesi ma soprattutto delle imprese. Ma la programmazione da quali punti dovrà partire? Dovrà partire la programmazione per quanto riguarda lo sviluppo dell'agroalimentare si fonda su alcuni pilastri, innanzitutto le infrastrutture perché non c'è possibilità di sviluppo se noi non abbiamo infrastrutture che ci consentano di avere una produttività adeguata e una sostenibilità, la ricerca, l'innovazione, la valorizzazione e il ricambio generazionale e l'aggregazione di filiera. Questi sono i punti. Vogliamo spostarci agli articoli di cronaca. L'ASD, ma la sanità, apparecchio per raggi X, è comprato e dimenticato da sei anni. Una lettera di una dirigente del distretto sanitario Pescara Nord dice macchinario mai entrato in funzione, l'azienda replica, dice c'è una discussione con la ditta produttrice per un pezzo di ricambio danneggiato. Qui vediamo la lettera di denuncia della dirigente dell'ASD. Un appello anche di un genitore o di una papà dice aiutatemi a salvare mia figlia di 13 anni, ha una leucemia molto aggressiva, vorrei portarla a Roma o a Fidadelfia. Spostiamo anche altri malati di SLA al ministro. Una lettera appello dice Mastrangio e le zicchieri da anni in carrozzella scrivono al Grillo, il ministro della Sanità, la gestione della portologia non può essere affidata a familiari caregiver impreparati. Andiamo ad andare sulla sicurezza del comune di Pescara, una tax force di vigili per proteggere la movita. Rafforzata la presenza della polizia municipale nelle strade del divertimento, pattuglie in azione fino a mezzanotte, poi interverranno le altre forze dell'ordine. Questa è una decisione che ha preso il comune di Pescara per mantenere la sicurezza. Un nuovo cantiere cambia la viabilità, Corso Vittorio, deviate dieci linee dei bus, da lunedì mattina scatta il senso unico, tutti i mezzi pubblici provenienti da nord transiteranno, dice, su via Bassani e Pavone. E inoltre, sempre a Pescara, pronta la ciclabile lungo fiume riaperta, la pista di via Valle Roveto, avviati i lavori su quella di Viale Sabucchi. E qui vediamo la foto del vice sindaco sulla ciclabile del lungo fiume appena riaperta. Sempre a Pescara, il comune riapre due asili, 60 bimbi tornano in classe, scuole più sicure, le opere completate. Dice infatti l'articolo, sono terminati i lavori nei nido di infanzia di via Benedetto Croce e via Pespucci. A febbraio riprendono le lezioni, dice, e ora possiamo ridurre le liste di attesa. Riguardo a problemi di bullismo, schiaffo al bullismo, il videoclip di Antù conquista la rete. Ridevano tutti di me, è stato girato al castello di Nocciano, duemila visualizzazioni il giorno stesso della pubblicazione. Diamo qui la foto di questo ragazzo che è stato proprio protagonista di questo videoclip. clip. Cronaca di Montesilvano, Salvini premia Maragno, 1 milione e 600 mila euro per lo Sprar. Montesilvano dice, è stato il primo in gradatoria per l'analizzazione del nuovo progetto. L'accoglienza di 52 minorenni e rifugiati. Il sindaco dice, siamo stati tutti lungimiranti. Problema dell'immigrazione. E inoltre a Spoltore, ci spostiamo il comune di Spoltore, ladri in comune rubati 6 mila euro e carte d'identità. Colpo all'ufficio Anagraf, entrano dalla finestra e prendono i contanti da un cassetto. A vuoto il tentativo di aprire la cassaforte contenente all'interno i buoni pasto. Discariche abusive nelle contrate, caccia i responsabili. A Francavilla, come vedete qui dalla foto, materazzi elettronomestici e materiale di l'abbandonati tra Valle Merli, Cetti, Vaccaro e Coderuto. E qui il comune di Francavilla si è attivato affinché questo non avvenga più. Truffe agli anziani. A letto manoppello arrestati due giovani. Uno si finge il nipote che non può ritirare il pacco. Scusate, l'altro fattorino. Sborsati anche 2 mila euro a riguardo. Lavori antisismici al comune di Penne. Chiude il liceo artistico. Ordinanza del sindaco. Lunedì lezioni sospese per permettere l'intervento della ditta. A Chiedi, scusate, si finge invalida e si alza dalla carrozzina. Abbiamo trovato anche questo titolo in apertura. Del quotidiano anziana di 85 anni a processo per truffa aggravata. Per 5 ha intascato 31 mila euro di pensione e di accompagnamento. E qui vediamo la signora che è stata fotografata mentre è in carrozzina, ma anche mentre cammina. Vogliamo postarci su altri argomenti. Abbasto, crolla il tetto della chiesa del Giubileo. Paura nella parrocchia. Si apre un buco di oltre 10 metri. L'edificio era chiuso da 21 giorni. Qui vediamo il crollo del tetto. E inoltre, altro titolo che avevamo trovato all'inizio dell'apertura del quotidiano della provincia di Chiedi. Stop del sindaco. Grave carenza di loculi. Chi è nato a Chiedi, ma risiede fuori, non può essere sepolto. Al cimitero tombe soltanto per i residenti. Vediamo il merito al lavoro. Segnali positivi in Val di Sangro, la Seve, l'assunti 140 dipendenti precari, via le stabilizzazioni nella fabbrica e dal prossimo febbraio gli interinali scadenze diventano a tempo determinato. Articolo di cronaca. Lanciano, telefonini in carcere, si indaca sulle schede. Gli investigatori pronti a passare al setaccio, i tabulati, protestano gli agenti. Dice, siamo pochi in servizio. L'Aquila, ex e car, sciopero contro i trasferimenti. A vuoto il tavolo ministeriale. Alcune storie dei 43 dipendenti che potrebbero essere collocati altrove, dice, oppure licenziati. Infatti al call center ci sono 300 persone a rischio, posti di lavoro. Impiegata comunale, triste tragedia al comune di Avezzano, si accascia e muore. Ma loro, sotto gli occhi del marito, Annarita di Bastiano, aveva 61 anni ed era un pilastro del settore ragioneria. E qui vediamo la foto di quello del sindaco, anche Gabriele De Angelis a destra. E Annarita di Bastiano del triste, l'impiegata comunale che è defunta. E assenteisti salvati dai cavigli, sul Mona, i legali dei 43 dipendenti. Scaduti i termini per le contestazioni. Vogliamo spostarci alla cronaca di Teramo. Blackout informatico alla Asle e l'Asle va in panne. Si sono rotti tre dischi rigidi, un caso rarissimo. Tecnici al lavoro per ore e nel frattempo interi reparti fermi o rallentati. Comunque ci dicono che entro oggi forse dovrebbe riprendere tutto nella normalità. Incendio, c'è il rischio inquinamento. A Martinsicuro, il sindaco Massimo Vagnoni, emette un'ordinanza sulle precauzioni da adottare. Finestre chiuse nel raggio di un chilometro, dice il sindaco. E inoltre il comune di Tortoreto, tassa di soggiorno dal 15 giugno. Sono state anche definite le tariffe insieme agli albergatori. A Pineto scoperta casa di riposo abusiva. I carabinieri trovano una villetta a 11 anziani malati non autosufficienti. Trovata la proprietaria, una 55enne del posto. Tutti gli ospiti sono stati riaffidati ai propri familiari che nei prossimi giorni saranno sentiti dai militari. Botte alla moglie, condanna due anni e mezzo ad Atri. L'uomo è stato ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo. La Meloni costa deve accelerare, dice, per la bonifica di Bussi. E inoltre vediamo anche altri articoli. Le tende dei disperati tra fango e rifiuti. A Pescara sgomberati a novembre scorso da erudere dei palazzi clerico. I tossicodipendenti si sono accampati in un terreno accanto. E dice questo luogo è diventato un supermarket dell'eroina a cielo aperto con l'inevitabile contorno, dice, di prostituzione e violenze. E protestano i cittadini del posto. Smog e veleni nei fiumi, le spine dell'ambiente. Tra le ombre note anche molte luci nello studio dell'Arta, pubblicato ieri. A Pescara migliorano inquinamento acustico ed emissioni elettromagnetiche. Qui nella foto vediamo il direttore generale dell'Arta, il dottor Francesco Chiavaroli, dove da lunedì tornerà, dice, il senso unico. A Montesilvano accoglie i bimbi dei rifugiati. Approvato dal Ministero il progetto dello SPRAR per i minori in 52. Saranno distribuiti anche Elice e Picciano. E qui è stato anche il contributo del Governo a riguardo. All'Aquila ho l'esisteme per i lavoratori ancora senza nessuna certezza. 36 impiegati possono salvare il posto solo trasferendosi nella Capitale. Senza risultato il vertice al Mise. Nuova convocazione il 29 gennaio. Vogliamo costarci. Ecco ora l'Aquila a Bertolaso. La soluzione è definitiva. Prescrizione e mancati ricorsi alla Corte di Cassazione. Il verdetto è messo nel processo d'appello, dice. E' irrevocabile alcuni parenti delle vittime del terremoto. Ieri a Roma protesta contro l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Parto con indolore. Ospedale dimenticato. Ad Avezzano. Lettera aperta dell'ex deputato Massimo Verrecchia. Il quale varo una clamorosa protesta. Dice l'avevo detto in tempi non sospetti. Tutto questo nonostante i mille interventi. Più l'anno della Marsica. Le assunzioni sono state, dice, già state previste. Non solo nel nosocomio del capoluogo. Ma anche in altri posti. A Chiedi nel vecchio ospedale Santissima Annunziata. Il cuore della sanità. La direzione aziendale dell'ASDL ha approvato il progetto di fattibilità. per la ristrutturazione in partnership con l'Inail. Qui vediamo la foto dell'ospedale. Lanciano. Stranieri disoccupati. L'Inps rivuole i soldi. Dice, siamo a conoscenza di casi di persone che sono tornate nel loro paese. Ma continuano a ricevere l'assegno di mantenimento. E l'Inps richiede i soldi in più che sono stati dati. Case abbandonate, giro di vite nella prefettura. Sono stati convocati a Teramo dal prefetto. Gli amministratori comunali e dei proprietari di enti pubblici. L'obiettivo è scongiurare la proliferazione di reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Inoltre, comune di Giulianova, le eccellenze dell'accoglienza in città. TripAdvisor lo indica nella top eventi nazionale, primo d'Abruzzo. Il proprietario, Andrea Taffà, un premio al grande lavoro dalla serietà. Qui vediamo il SEA Park Resort di Giulianova. Inoltre, vogliamo adesso postarci, prima di passare alle pagine sportive, al quotidiano La Città della Provincia di Teramo. Pericolo Trivelle anche per l'Abruzzo. Il Forum per le Acque lancia l'allarme sugli effetti del decreto legge. semplificazione sull'Adriatico e la terraferma. Vediamo una piattaforma di estrazione marina. Vogliamo anche sempre spostarci a Teramo, al comune. Gareggiata ridotta per Ponte San Gabriele, giunta l'ora del necessario intervento di manutenzione. Il comune sollecita il progetto preliminare da parte dell'ANAS. Qui vediamo la foto e il degrado di questo ponte. Stasera a Teramo il corteo pro migranti in centro storico e i migranti parleranno di tranti fascisti e antirazzisti. Flaiani di Casa Poundo intanto replica a Giannella. e vediamo la manifestazione, la foto di archivio. I rebus canile è su quanti ospiti può sostenere. Sempre a Teramo, prima di varare il bando di gestione, il comune deve fare i conti con l'autorizzazione in sospeso dall'AS. Qui nella foto vediamo la struttura del canile di Carapollo. e vedevano vedere quanti cani può accogliere questo canile prima di darlo in gestione. Inoltre vogliamo ancora spostarci su altri argomenti. Scuola materna a Teramo e Reggio a confronto, conclusa la due giorni di meeting per il miglioramento dei servizi collegati alla povertà educativa. e qui vediamo la foto dei protagonisti di questo meeting Terra Mano che c'è stato dei due giorni. Inoltre vogliamo ancora spostarci su altri tipi di argomenti, per esempio quello del comune di Tortoreto. Ecco le tariffe della tassa di soggiorno sono presentate ieri mattina in municipio dall'amministrazione comunale. E qui in alto a destra, l'articolo di spalla di destra interno, le tariffe della tassa turistica e la foto aerea con il lungomare di Tortoreto. Martinsicuro, incendio, vietato aprire le finestre nel raggio di mille metri dal capannone. Questa è un'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Vagnoni del comune di Martinsicuro, dove è successo il tragico rogo. Inoltre, Giulianova, restring in corso per la stazione Giuliese, l'annuncio dell'ex sindaco Mastro Mauro dice avremo uno scalo moderno. Accessibilità, sarà realizzato anche un ascensore per superare, dice, le barriere e accedere ai binari del sottopassaggio. vogliamo postarci al comune di Pineto, casa di riposo abusiva nella villetta privata, donna di Pineto, si prendeva cura di dieci anziani malati senza avere le autorizzazioni necessarie. L'ordinanza, il sindaco Robert Everocchio ha subito emesso un'ordinanza per la chiusura della struttura. Sempre a Roseto, pronti ad intervenire per pulire il borsacchio. Il sindaco assicura l'interessamento del comune, ma i vandali tornano a colpire. E adesso vogliamo passare alle notizie sportive con il quotidiano Il Centro. Il Milan si affida a Cutrone e Napoli rinuncia da Allan. Oggi ci sono, sappiamo, i tre anticipi delle partite di Serie A. e Nippo Fantini al Giro d'Italia dice Ciotti esulta finalmente la Corsa Rosa al Via dice l'11 maggio. Vogliamo adesso passare anche alla Serie B. Il Pescara verso Livorno-Pescara domani alle ore 15 al campo del Livorno. Pilon dice La società sa cosa serve ma non si può fare il passo più lungo della camba. A riguardo vogliamo vedere il servizio. Prego. Allora, Memo Shai oggi ha fatto un lavoro a parte ma ha fatto con la squadra e lo porto via. Domani ci sarà un'ulteriore verifica per vedere se riusciamo a recuperarlo. Domani abbiamo la rifinitura e sarà un test importante per vedere se può essere la partita. No, io devo solo fare una verifica domani e poi deciderò se farò giocare subito o dopo questa poi è una decisione importante che ci sia che sia a disposizione però questo poi lo valuterò se farò giocare subito o no un giocatore che è molto importante per noi alle volte anche perché stavo in un buon momento in questa ultima parte di campionato sicché dispiace sempre privarci di un giocatore con le sue qualità. Campagnano non è a disposizione perché ha ancora un po' fastidio al quadricipile perciò anche lui non è della partita insieme a Brugman no, no giocherà a Frank a Carlo Tè questo ve lo dico al 101%. Dipende dal mercato dipende dalla società io quello che dovevo dire a voi ve l'ho detto insomma stavo a ripetere sempre le solite le solite cose insomma è andato via Fornasia arriva a Tubetella via Cocco poi io a Monachelle che andasse via non l'ho mai detto io non l'ho mai detto perché qua dopo mi ha debitato delle cose che io non l'ho mai detto preciso preciso il mercato è strano può capitare un'occasione importante e allora la piglia il volo perché è imprevedibile è difficile io faccio l'allenatore io i giocatori non posso andare a vederli quando alleno è chiaro che la società mi dice guarda c'è questa possibilità c'è questa cosa e dici è chiaro c'è un confronto quando si può fare una cosa si fa se non si può io non posso io non ho i soldi vogliamo spostarsi alla serie C oggi sappiamo gioca anche il Teramo con il Gubbio riscatto Teramo Maurizio punta dice tutto sui gol di Infantino il bomber pronto al debutto della trasferta di Gubbio e Biancorossi a caccia dei punti dopo due K consecutivi vogliamo spostare le pagine sportive del quotidiano il messaggero il mercato distrae il Pescara in ritiro Pilon come abbiamo visto già ieri ha portato la squadra a Coverciano oggi rifinitura pre-gara full immersion sul Livorno per evitare brutte sorprese domani allo stadio Picchi sempre con il messaggero l'articolo sportivo sul Teramo il Teramo a Gubbio è già gara salvezza mister Maurizio i conti si fanno in primavera dice non adesso però dobbiamo sbloccarci vogliamo spostarci adesso le pagine sportive del quotidiano la città sempre sul Teramo cerca il Blitz salvezza a Gubbio gara dedicata al Barbetti oggi gioca alle ore 14 e 30 e deve ricucire il Teramo i 4 punti di distacco rispetto agli Umbri infatti questo un articolo di Jacopo Forcella e inoltre vediamo sempre sul Teramo gli Umbri di Galderisi Repedilogo attenzione dice soprattutto al trequastista Casirachi e ai due esterni d'attacco difesa esperta e chi nel lato già in forma ecco dice i segreti del Gubbio inoltre il basket della Sebrec Canelo doppio squillo di Teramo il croato e l'italo a domenicano sono i rinforzi per il quintetto di Domizioli e aumentare le rotazioni del roster qui vediamo le foto e anche il beach walley atlete internazionali sulla spiaggia di Alba Adriatica una tappa del world tour si svolgerà nel mese di luglio alla beach arena dello stabilimento Il Faro infatti gran ritorno dopo alcuni anni di assenza un evento internazionale ufficiale tornerà sulle spiagge italiane e con questo ultimo articolo sportivo vogliamo concludere la nostra rassegna stampa di mattino 6 che riprenderà lunedì mattina 28 gennaio sempre alle ore 8 però vi vogliamo ricordare anche la continuazione della nostra programmazione di tv6 e anche i telegiornali che ci saranno oggi alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 per il momento vi auguro buona giornata a tutti quanti voi a tutti quanti voi a tutti quanti voi a tutti quanti voi Grazie a tutti.